Mi chiamo Paul Russ Sabaghena, sono il direttore dell'hotel più lussuoso della capitale del Rwanda, un posto che la mia famiglia e io consideravamo la nostra casa, fino al giorno in cui tutto cambiò. Papà, ci sono i soldati sulla strada! Tratto da una storia vera. Stanno ammazzando tutti! È un massacro. Ci sono qui le nazioni unite ora. Siamo qui per mantenere la pace, non per costruirla. Sono al cancello! Questo è un hotel a quattro stelle, non un capo profughi. Non ho i mezzi per proteggere queste persone. Quando un paese piombò nella follia... Stanno uccidendo i bambini tuzzi per spazzare via la prossima generazione. No! E il mondo gli voltò le spalle. Come fanno a non intervenire? Stanno morendo a centinaia di migliaia. Quando lo vedranno in tv diranno, oh mio Dio, è orribile. E continueranno a mangiare. Un uomo si trovò davanti a una scelta. Tutti i bianchi se ne stanno andando, anche i soldati dell'ONU. Le tue superpotenze, tutto ciò in cui credi, Bull, non fermeranno il massacro. Siamo stati abbandonati. Non ci sarà alcun aiuto, dovremo salvarci da soli. State giù a terra! Mikado Film presenta la vera storia di un uomo che tentò l'impossibile. Non posso lasciar morire questa gente. Papà! Non, non lasciarmi morire! Per salvare tutti quelli che poteva. Dicono che ha ordinato lei i massacri. Tu gli dirai la verità! Io non gli dirò un accidente se lei non mi aiuta! E creò un posto Entrate nell'hotel! Dove far sopravvivere la speranza. Tu sei un bravo uomo, Bull. Dobbiamo aiutarci a vicenda. Questa è l'unica cosa che può tenerci vita. Hotel Rwanda